Buonasera, chiudiamo la stagione con un'operetta che non è una piccola opera, è un'altra cosa, nel senso che il termine porta con sé sempre quest'ombra di inferiorità rispetto all'opera, così non è, è una cosa diversa come ci spiegherà molto bene Andrea Malvano che ringrazio di essere tornato ai nostri microfoni, oltre che per collaborare con l'editoriale del teatro con molto esito da parte mia ma credo anche da parte dei lettori. Operetta e non opera piccola, qualcuno fa risalire questo genere al singspiel, nel particolare al flauto magico anche qui abbiamo pezzi cantati e dialogati, nel nostro caso abbiamo un allestimento che porta la firma per regia, scene e costumi di Ugo De Ana, quindi un regista sicuramente più abituato alle opere, che invece ha fatto questo bellissimo spettacolo un paio di anni fa adattando anche la drammaturgia perché come capita spesso essendo una struttura particolarmente aperta da un punto di vista teatrale i dialoghi sono stati in parte rivisti, sarà cantata e recitata in italiano e per cui ogni volta che si va a vedere un'operetta e la vedova allegra è credo senza dubbio l'operetta più rappresentata al mondo fin dall'origine e del suo successo, va a vedere uno spettacolo che non è uguale anche nel testo proprio rispetto ad altre cose. Sul palcoscenico del Reggio canteranno Svetra Vasileva nel ruolo del titolo cui si alterna Daniela Schillaci e poi Daniela Mazzucato che è un abitué di questo tipo di spettacoli, Alessandro Safina e Ivan Magri. Sul podio è Cristof Campestrini e le coreografie dello spettacolo che ovviamente hanno un peso significativo sono di Leda Loiodice mentre Ugo Deana ha firmato Regia Scene e Costumi. Non ho altro da aggiungere, direi di ripercorrere un po' la storia a ritroso e di sentire da dove parte Andrea Marvano. Grazie. Grazie a te Simone anche per aver già proprio introdotto il punto da cui volevo partire. questo sostanziale imbarazzo, fastidio quasi, che proviamo nel definire la vedova allegra un'operetta. Qualche settimana fa dall'ufficio stampa proprio del Reggio mi hanno chiamato per, contattato per scrivere un articolo e mi hanno detto mi raccomando però ricordati di dire che per noi questa non è un'operetta, no è qualcosa di più. Perché c'è sempre questo alone, questa idea che l'operetta sia un po' il genere di serie B rispetto all'opera che è il genere di serie A. E questo naturalmente è dovuto a questa desinenza, no? Et in tutte le lingue, anche i tedeschi c'è operetta, eccetera, che sembra sminuire. C'è la scuola che è quella in cui abbiamo fiducia, c'è la scuoletta che invece è sotto casa, in cui magari non abbiamo voglia di mandare i nostri figli. C'è il lavoro che è quello che fanno i grandi, il lavoretto invece all'asilo lo fanno i bambini. La settimana scorsa la nostra gloriosa nazionale era per tutti una grande squadra, oggi tutti i giornali parlano di una squadretta. È chiaro, quindi che... Non bidun, sì, piena di brocchi. Ecco, e invece l'altra settimana è una grande squadra. Quindi c'è sempre una sorta di rapporto gerarchico che questa desinenza crea tra opera e operetta. Però se funziona nel linguaggio di tutti i giorni non funziona bene con l'operetta. Come già diceva appunto Simone, l'operetta è un genere a sé, con delle caratteristiche sue, con delle caratteristiche proprie, che non devono necessariamente essere messe in rapporto tanto meno gerarchico con l'opera. Faccio qualche esempio. Ci sono delle caratteristiche che sono tipiche dell'operetta ma che non sono discriminanti, cioè non è che identificano solo l'operetta. Altri invece sono assolutamente peculiari dell'operetta. Parto dalle prime. Tipico delle operette è di essere costituite da una forma cosiddetta numeri chiusi. Pagino che tutti voi insomma sappiate cosa vuol dire ma si tratta sostanzialmente dell'architettura, la struttura dell'opera che è formata da tanti brani, ognuno dei quali è numerato, dall'uno a crescere, e ognuno dei quali ha una sua autonomia, cioè può essere staccato, estrappolato dal contesto. Infatti vengono spesso eseguiti in forma di concerto, brani sciolti delle operette. Questo è tipico dell'operetta ma anche dell'opera, anche di molta opera, perché insomma tutto il Settecento sostanzialmente ci racconta una storia di opere numeri, numeri chiusi. Altro aspetto, alternanza tra episodi recitati, proprio parlati, ed episodi cantati, quello a cui faceva riferimento appunto Simone I. Tipico dell'operetta ma c'è anche appunto il singspiel nell'opera, questo genere, di cui fanno parte il flauto magico, il ratto al serraglio, il franco canciatore, il frasciutti Weber, tutti i lavori che non possiamo certo definire operette, sono opere però hanno questa caratteristica. Mentre discriminanti quindi assolutamente peculiari dell'operetta, sono altre caratteristiche. Ne cito tre. Una è quella che per statuto, in un certo senso, il compositore di operetta non deve andare a fondo nella psicologia dei personaggi. Cioè non bisogna per forza andare a penetrare a fondo ciò che sta dietro alla facciata dei personaggi. Anzi, non bisogna farlo, bisogna lavorare più su tipi, su stereotipi. Questo nell'opera non deve succedere. Se succede vuol dire che l'opera è scritta male, che non funziona. L'opera deve creare dei personaggi unici e ripetibili. Violetta, regoletto, la contessa delle nozze di figaro, eccetera. Altra caratteristica tipica dell'operetta è la presenza di ritmi ballabili, dalla prima all'ultima nota. Cioè l'operetta ci deve veramente tirar fuori la voglia di alzarci dalla poltrona per metterci a ballare. Questo succede di tanto in tanto nell'opera. Quindi ci sono dei momenti ballabili nelle opere, ma non sono sistematici. Mentre le operette sono scritte in ritmo di danza, dalla prima tendenzialmente all'ultima nota. Quindi una sistematicità proprio di ballabilità. E poi, ultima ma forse la più importante, la caratteristica melodica. Melodie semplici o apparentemente semplici, come vedremo, che siano orecchiabili già al primo ascolto. Cioè devono appiccicarcisi addosso appena noi le incontriamo. Questo succede nell'opera naturalmente, ma non è un obiettivo fondamentale. Il compositore d'opera può anche lavorare su melodie più complesse, più artificiose, più raffinate. La vedola allegra, tornando a chiudere il cerchio, ha tutte queste caratteristiche fondamentali. È a numeri chiusi, alterna episodi recitati, episodi cantati. Qui saranno recitati in italiano, se ho capito bene, quindi molto godibili. Proprio teatro di prosa, che si fonde al teatro lirico. Psicologie accennate, anche qui. La vedova allegra è poco più dello stereotipo del personaggio femminile che fa girare attorno a sé tutti gli uomini. Ma non andiamo a fondo nella psicologia del personaggio, non ci entriamo dentro. Ritmi ballabili sempre. Beh, la vedova allegra si può dire che ha un cuore che batte in tre, perché la vedova allegra è tutta in ritmo ternario, ritmo ternario del waltzer. Dalla prima all'ultima nota. E poi, beh, la semplicità e l'orecchiabilità melodica della vedova allegra, beh, insomma, sono scontate, perché stiamo parlando di melodie che abbiamo tutti nella testa. Impossibile non uscire anche dalla prima rappresentazione a cui si assiste della vedova allegra senza canticchiare qualcosa. Roba che proprio ci si appiccica addosso, ci si incolla alla sensibilità uditiva. Ecco, quindi allora, il risultato di questo discorso introduttivo. La vedova allegra, ci piaccia o no, è un'operetta. Semplicemente cosa succede? Che è una grande operetta. Come succede in tutti i generi, musicali e non, ci sono sempre delle punte di diamante e dei pezzi di carbone. In questo caso, la vedova allegra è certamente una punta di diamante del genere dell'operetta. Ci piaccia o no, la dobbiamo chiamare così. Forse il termine non è dei migliori per questa desinenza fastidiosa, ma di fatto appartiene perfettamente a questo genere. E il fatto che sia una grande operetta ce lo dicono tante cose. A partire da alcuni episodi che, insomma, sono legati alla storia di questa operetta. Ad esempio, pare che Maler, Gustav Maler, quindi insomma stiamo parlando di uno che pensiamo agli antipodi dell'operetta, forse il più raffinato compositore di sinfonie tra otto e novecento, pare che il giorno dopo essere stato a una recita della vedova allegra si sia catapultato in una libreria di musica per cercare lo spartito. Perché c'erano un paio di modulazioni, così dice Alma, che lo affascinavano. Pensare che uno come Maler pensi di poter imparare qualcosa dalla vedova allegra, beh, ci stupisce. Vuol dire dall'operetta, vuol dire che probabilmente dentro c'è davvero qualcosa di importante, qualcosa di molto elevato dal punto di vista artistico. Altro aspetto che rende grande l'operetta vedova allegra è il suo successo veramente planetario. Si citava prima appunto uno dei titoli più eseguiti, forse il più eseguito. Io ho trovato soltanto un dato, non sono riuscito a trovarne di più recenti, relativo agli anni settanta, si parlava già di 500.000 repliche negli anni settanta, sono passati ancora appunto quasi 50 anni, saremmo intorno al milione. Beh, milione di repliche credo che siano numeri da Traviata a Rigoletto, insomma, da Barbieri di Siviglia, numeri davvero enormi e spropositati anche per l'operetta. Pare che addirittura Hitler fosse disposto a mettere da parte i suoi ideali razziali per la vedova allegra, perché la vedova allegra era l'opera più eseguita negli anni del Reich, ma Lear era sposato con una donna ebrea. E allora, stando alle regole assurde e deprecabili del Ministero della Propaganda, quest'opera doveva essere bandita da ogni forma di rappresentazione e doveva la famiglia Lear essere perseguitata, proprio doveva finire nel cestino della cosiddetta musica degenerata, quella fatta o comunque legata in qualche modo anche alla lontana con il sangue ebreo. Invece Hitler andava talmente pazzo per la vedova allegra che metteva da parte addirittura i suoi ideali razziali. Per il suo compleanno del 1943 chiese addirittura di avere una registrazione ex novo della vedova allegra. Così si scelse tutti i suoi interpreti arianissimi, eccetera, ma di fatto sanciva una piccola deroga, una norma che era assolutamente inderogabile apparentemente durante il periodo del Terzo Reich. Bruno Maderna, altro grandissimo compositore del Novecento, forse il più raffinato, il più all'avanguardia di tutto il nostro Novecento italiano, amava la follia la vedova allegra e ne ha realizzato addirittura degli arrangiamenti che non sono molto noti, anzi sono assolutamente ignoti perché sono conservati nell'archivio della RAI, i manoscritti, e non sono mai stati eseguiti. Sono splendidi e raffinatissimi e meriterebbero certamente di essere eseguiti. Quindi Maderna, il fondatore dello studio di fonologia di Milano, quindi le cose più cervellotiche che si possano pensare, amasse alla follia la vedova allegra, dei testimoni, insomma il valore di quest'opera. Chiudo con l'ultimo dato da ricordare, storico, il fatto che la MGM, la Metro Goldwyn Mayer, la grande casa di produzione cinematografica, negli anni venti abbia sborsato mi pare 120 mila dollari, che all'epoca era una spaventosa, per assicurarsi i diritti cinematografici della vedova allegra. Diritti da cui sarebbero nate le tre versioni cinematografiche, la più celebre è quella di Ernest Lubitsch, che appunto utilizza e sfrutta a mani basse proprio tutta la musica di Lear. E quello che ci stupisce di tutto questo successo planetario è questo, che in realtà la vedova allegra doveva essere un fiasco. Questo era stato pronosticato alla vedova allegra. Come era andata la storia? Era il 1905, Vienna, i librettisti Vittor Leone e Leo Stein, che lavoravano appunto in tandem, avevano messo a punto questo bel libretto che prometteva molto bene. E per questo libretto promettente volevano un grande compositore, un compositore che potesse dare adeguato risalto al libretto. E puntarono su Richard Heuberger, che oggi noi non è che ricordiamo molto, ma all'epoca era forse il più stimato e più apprezzato compositore di operette. Questi rifiutò, si perse forse la grande occasione della vita, perché all'epoca era noto, ma oggi è totalmente ignoto, magari con la vedova allegra, chissà. Rifiutò questa occasione e i due si trovarono improvvisamente sprovvisti dal compositore. Il teatro Anderwin di Vienna, grande teatro storico che aveva battezzato Sinfonie di Beethoven, tanto per dirne una, aveva però già messo in cartellone la vedova allegra. E allora serviva urgentemente un musicista che appunto adattasse e musicasse questo libretto. Al teatro Anderwin bazzicava appunto Franz Lehar, eccolo che entra in scena, ed era praticamente un signor nessuno all'epoca. Era figlio di un ufficiale dell'esercito, aveva cominciato a fare musica proprio nell'esercito come direttore di bande militari, poi era uscito dall'esercito, si era pian piano avvicinato alla musica facendo una bella gavetta, insomma, quindi tutte bande orchestrine secondarie ed era arrivato a dirigere l'orchestra, diciamo di serie B, perché poi alla fine questa cosa c'è sempre stata, del teatro Anderwin, cioè quella dedicata alle operette. Appena vide questo libretto appunto sprivo di un compositore cercò in tutti i modi di farselo affidare. I due librettisti però tentennavano perché Lehar non dava nessun affidamento, oltretutto aveva scritto un paio di cose prima ma non avevano avuto praticamente nessun successo, quindi era un po' un rischio, un salto nel buio. Ma l'operetta era in cartellone, bisognava metterla in scena e alla fine anche il direttore del teatro decise di rischiare di affidare l'opera a Lehar. Lehar si buttò a capofitto, un paio di settimane come sempre succede per questo genere di musica venne fuori il lavoro. Quando fu il momento delle prove il direttore del teatro scese in sala per ascoltare qualche nota di questa partitura e dopo aver ascoltato poche scene se ne uscì con una frase di cui forse si sarebbe pentito per tutta la vita perché se ne uscì con la frase Das ist kein Musik. Questa non è musica. Questa frase bisogna sempre fare attenzione a dirla perché di solito quando la si dice vengono fuori dei capolavori. È successo anche nell'ottocento a Schumann quando ha detto dell'ultimo movimento della sonata in si bemolle di Chopin questa non è musica e invece quello forse è il movimento più rivoluzionario di tutta la produzione di Chopin che avrebbe lasciato un segno anche nel novecento. Fatto sta che lui dice questa frase e poi ha quasi la tentazione di rimuovere l'opera dal cartellone però ormai è troppo tardi. L'opera va in scena, l'operetta va in scena. Il 20 dicembre del 1905 tutti si aspettavano il fiasco, un paio di repliche e si sarebbe tolta dal cartellone come si era soliti fare all'epoca e invece fu un enorme successo fin dalla prima rappresentazione e non solo il direttore del teatro dopo essersene uscito con questa frase fu costretto a tenere in cartellone la vedova allegra ma fu costretto anche ad aggiungere repliche su repliche, decine e decine di repliche che ad aprile del 1906 erano arrivate addirittura a 116 repliche in cartellone. Quando si arrivò alla duecentesima replica nella primavera del 1906 l'amministrazione viennese decise di dare una medaglia al valore a Franz Lehar che era riuscito a fare un successo così grande, a fare botto proprio e in questa medaglia gli chiesero quale frase volesse far iscrivere, far incidere, tutti si aspettavano che volesse far incidere un incipit di un'aria della vedova lega e invece cosa scelse? Scelse proprio quel does this kind of music che gli aveva forse poi portato così fortuna tutto sommato. Fortuna che non sarebbe riuscito più a replicare naturalmente, perché qui stiamo parlando di quelle congiunture quasi astrali che succedono una volta nella vita, nella carriera di un compositore, le operette successive furono di successo ma mai così, l'amore di Zingaro, il conto di Lussemburgo, Eva, il paese del sorriso, tutti titoli che ebbero una certa diffusione ma niente come quell'operetta che in sostanza gli aveva garantito la pensione per tutta la vita, solo con i diritti d'autori. Durante la grande guerra lui ritorna a dirigere bande militari, durante la seconda guerra mondiale e tutto il periodo del nazismo vive questo rapporto un po' ambiguo con Hitler e con i nazisti, cioè formalmente famiglia perseguitabile ma di fatto il compositore più eseguito del Reich, quindi questa deroga che nessuno si aspettava alle direttive del regime, tanto che dopo la guerra ci furono addirittura i sospetti, fu addirittura accusato di collaborazionismo come la tua operetta era la più eseguita nel periodo del Reich, la cosa non andò molto più in là perché insomma la famiglia era quella che era e poi le armorì subito dopo quindi il processo diciamo non ebbe quasi tempo di prendere forma, però di fatto ecco questa operetta gli aveva garantito non solo la pensione ma anche la salvezza perché in quegli anni con una famiglia del genere mediamente bisognava andarsene negli Stati Uniti se andava bene, altrimenti era costretto a subire insomma le forbici della censura. Questo successo diciamo ci stupisce un po' soprattutto per il luogo in cui nacque, perché stiamo parlando della Vienna del 1905. La Vienna del 1905 era il luogo in cui Freud studiava l'inconscio, i lati oscuri, i sinistri, inquietanti della nostra psiche. Era il luogo in cui Kokoschka e Schoenberg mettevano appunto le prime pietre per la costruzione dell'espressionismo, quindi le nozioni di urlo, di violenza, di sangue, di aspetti tetri sostanzialmente che, come dire, non è che riusciamo a coordinarli bene con la vedova allegra. La vedova allegra sembra un po' un raggio di luce nel buio tenebroso di questa Vienna e questa luce, questo successo forse si deve proprio all'ambientazione parigina, perché Parigi tanto era trainante per l'operetta grazie a Offenbach eccetera, ma poi soprattutto era una città che aveva imparato a divertirsi come nessun'altra alla fine dell'Ottocento. Questo anche forse grazie a eventi politico-militari tipo la sconfitta di Sedan, che sapete Bismarck diede una battosta fortissima a Napoleone III e tutta la Francia e in quell'occasione i francesi capirono di essere ben lontani dall'invincibilità di Napoleone, Napoleone I, Napoleone Bonaparte e quindi cominciarono a prendersi un pochino meno sul serio, a capire che c'è anche altro oltre alla potenza militare e politica e quindi diventò la capitale del divertimento, delle folie berger, del Moulin Rouge eccetera. E Vienna invece no, non aveva ancora imparato bene a divertirsi come Parigi, non aveva ancora imparato soprattutto a prendersi meno sul serio, non aveva imparato l'autoironia sostanzialmente. Al governo c'era ancora Francesco Giuseppe, quindi 75 anni nel 1905, quindi stiamo parlando di uno che aveva visto crescere l'impero austro-ungarico al massimo del suo successo, del suo splendore. Quindi faceva fatica a vedere questo impero che perdeva i pezzi un po' alla volta. E quindi è chiaro che era una città che non aveva ancora rinunciato a quella posizione di leadership un po' socio-politica a cui invece forse Parigi aveva rinunciato. Allora, il fatto che la vedova Allegra sia ambientata a Parigi fu un po' come una boccata d'aria per i viennesi, in questa città tetraespressionista in cui l'impero era ancora così schiacciante, così soffocante, beh insomma una boccata d'aria, una ventata parigina era davvero rigenerante. Quindi era un po' come portare un po' di Parigi a Vienna, un pezzettino di Parigi a Vienna. E allora come funziona questa Parigi? Come la organizzano Victor Léon e Léon Stein e naturalmente Franz Léard? La prima cosa da dire, ripassando rapidamente la trama, è che tutti i tre atti sono tutti ambientati all'interno di feste. E questo già insomma la dice poi sostanzialmente lunga su quello che è il carattere collettivo, di allegria collettiva che quest'opera voleva dare, la carica di allegria collettiva che quest'opera voleva dare ai viennesi, quasi la scarica vorrebbe da dire di allegria collettiva. Parigi 1905, quindi contemporaneità assoluta con il luogo in cui nasce, il barone Zeta è ambasciatore a Parigi dello stato di Pontevedro. Pontevedro, cos'è questo Pontevedro? È uno stato immaginario, inventato dai librettisti, che però non è tanto immaginario, perché già il nome ce lo dice, allude, vedremo perché, al Montenegro. Pontevedro, Montenegro si vede già, insomma l'analogia. Quindi, come dire, non uno stato a caso, non è che sceglie, che ne so, il Costa Rica, perché è un po' un paese adesso, per dirne uno, sceglie il Montenegro, che all'epoca stiamo parlando dell'area balcanica, cioè quella da cui sarebbe scoccata la scintilla della prima guerra mondiale. Quindi zona delicata da prendere un pochino con le molle, però appunto loro scelgono questo. Il barone Zeta ha una moglie che si chiama Valancienne, che lo tradisce con un giovane aristocratico parigino che si chiama Camille de Rodion. Questa relazione tra Valancienne e Camille è sotto gli occhi di tutti, in queste feste tutti sanno di questa relazione, alla luce del sole totalmente, l'unico che non se ne accorge è proprio il marito, barone Zeta, il quale non la vede questa relazione perché il suo viso, diciamo, è ostruito da un altro problema, che è un problema di tipo politico-diplomatico, cioè a Parigi è arrivata questa fascinosa donna che si chiama Anna Glavari, la quale ha appena ereditato dal marito, appena appunto passato a miglior vita, un enorme patrimonio e sta cercando un nuovo marito a Parigi. Fin qua diciamo niente di strano apparentemente, ma barone Zeta non ci dorme la notte perché se Anna, questo è il suo pensiero, se Anna si sposa con un parigino, allora tutto il suo patrimonio verrà spostato in Francia e quindi si crea un enorme buco di bilancio in Pontevedro. Allora voi vi rendete conto che stiamo parlando di fantapolitica, perché, come dire, intanto pensare che il bilancio di un intero Stato possa reggersi sull'eredità di una donna è un po' assurdo, ma soprattutto non è che se uno, c'è un patrimonio fatto anche di beni immobili, quindi se uno si sposa con uno straniero non è che i beni immobili prendono il volo immediatamente e si trasferiscono da un'altra parte, rimangono sempre lì. Quindi, come dire, è la prima nozione di assurdo che c'è in questo dramma che è tutto totalmente scollegato dalla realtà. Vedremo poi perché le critiche alla Vedova Allegra come rappresentazione della scena contemporanea non stiano in piedi, proprio per queste cose, perché siamo sempre nel mondo della fantasia assoluta, illogica. Allora, lui appunto non ci dorme la notte per questo problema, ma ha trovato la soluzione. La soluzione è questa. Sempre lì a Parigi, nelle feste che si fanno in questi palazzi, bazzica un giovane fascinoso che si chiama Danilo, il quale è Pontevedrino. è stato in precedenza, ha avuto una piccola relazione insomma con Anna, con la bella ereditiera, poi le loro vite si sono separate, lei ha sposato questo ricco uomo d'affari, lui invece è venuto a Parigi, dove si è lasciato totalmente abbandonare alla bella vita parigina, e quindi la sua casa è diventata Maxime, le sue compagne abituali di scorribande sono le grisette, le prostitute, le allegre donnine insomma che colorano Maxime, e insomma si è abbandonato a questa vita, ma appunto il barone Zetta spera di riavvicinare i due, di allontanare Danilo dalle grisette per riportarlo ad Anna, e di fare in modo che ci sia un nuovo matrimonio e quindi che il patrimonio rimanga tra Pontevedrini, nel suo stato. Benissimo, poi gli dicono che, è solo un po' preoccupato perché vede che c'è in giro, che bazzica quest'altro giovane fascinoso che è Camille de Rodion, poi gli dicono, no ma guarda non ti preoccupare, lui ha già un'altra per la testa, e lui si dice, va benissimo, dorme sonni tranquilli, non sa che però quest'altra per la testa è proprio sua moglie. Però a parte questo, insomma, quando arriva Anna in scena, in questa festa, è uno di quei momenti in cui il waltzer, questo filo che tiene insieme un po' tutta l'opera, arriva veramente a spandere il suo profumo fascinosissimo, sensualissimo su tutti i presenti, tutti vogliono ballare con Anna, e alla fine Danilo riesce a ballare con lei e quando ballano si capisce subito che tra di loro c'è ancora del tenero, cioè si può fare, insomma, questa cosa. L'unico problema è che Danilo ha paura che un suo eventuale avance nei confronti di Anna venga considerata come un gesto interessato al suo patrimonio e non alla sua bellezza, alla sua persona, e quindi si tiene sempre distante per questo scrupolo, diciamo, economico, anche qui siamo un po' nella fantasentimentalismo, perché voglio dire, una bella donna, un bel patrimonio, perché farsi delle remore per questa storia? Però lui se le fa moltissimo e alla fine dell'atto, insomma, vengono fuori queste problematiche. Atto secondo, nuova festa, Palazzo di Anna questa volta, festa Pontevedrina, quindi che riprende le tradizioni di Pontevedro, dice, ma quali tradizioni? Che lo Stato non esiste. Vedremo poi quale, diciamo, soluzione trova a questo problema. A un certo punto della festa Camille Valenciennes, quindi la moglie di Barone Zeta e appunto Camille l'aristocratico, si appartano in giardino in uno splendido padiglione bello raccolto per amoreggiare tranquilli. Non che dovessero, diciamo, nascondersi, perché tutti lo sapevano, però era un posto, insomma, un pochino più appartato. Proprio in quel momento il Barone Zeta decide di andare fuori a prendere una boccata d'aria. Sente che nel padiglione c'è qualcuno, guarda dal buco della serratura, gli sembra di vedere sua moglie e vuole aprire la porta. Arrivano tutti gli altri invitati, che naturalmente cercano di fargli perdere tempo, giusto il tempo necessario per fare in modo che Anna faccia il giro intorno al padiglione, entri dal retro e si sostituisca Valenciennes. Così quando il Barone apre la porta del padiglione trova dentro Camille con Anna. La cosa ha un duplice obiettivo, primo di scagionare la sua amica Valenciennes, ma secondo soprattutto di stimolare un po' la gelosia di Danilo. Anna vuole spingere questa montagna a venire verso Maometto, in un certo senso, e fa di tutto, e qua questa gelosia certamente riesce a tirarla fuori. Atto terzo, altra festa, ultima festa, questa volta parigina, Anna ha deciso che per mettere a suo agio e cercare di corteggiare un po' meglio Danilo, ha riprodotto a casa sua lo scenario di Maxime. Uguale identico, stesse finestre, stesse tavoli, stesse pareti, tutto uguale identico. Non solo, non contento, ci ha messo dentro anche le grisette, le sei, sette grisette, quante sono, non mi ricordo. Ora adesso io, anche qui, notate il fantaromanticismo in cui siamo, un uomo per conquistare una donna la invita a una festa piena di prostitute. Cioè, non c'è nessuna logica in questa cosa. Naturalmente è chiaro che, appunto, Danilo si trova a suo agio in questa situazione, come dire, come non esserlo. I due riescono comunque a parlare tra di loro, viene fuori questa gelosia, Anna gli spiega, ma non essere geloso, perché in realtà nel padiglione c'è stato lo scambio di persona, non ero io, lui un po' ci crede, un po' non ci crede, ma rimane comunque sempre sulle sue posizioni. Proprio mentre c'è questa festa molto scollacciata, la Cancana alla Offenbach, arriva un dispaccio da Pontevedro che comunica che lo Stato è sull'orlo del fallimento. Barone Z riceve questa notizia e capisce che ormai il patrimonio di Anna è davvero largo della bilancia che può tenere in piedi il suo Stato. E quindi si sente addosso un macinio di questa responsabilità di dover far sposare Anna ad un Pontevedrino e quando legge questo dispaccio è proprio il momento in cui trova in giro per la casa un ventaglio nel quale ci sono delle frasi d'amore che si è scambiata la moglie Valenciennes con Camille. Quindi finalmente ce la fa anche lui, capisce di essere stato tradito, questo è il segno appunto concreto del tradimento e allora cosa fa? Ripudia subito, allontana subito la moglie per punirla e poi si butta senza neanche pensarci un secondo su Anna per farle una proposta di matrimonio. Quindi l'eroe che salva lo Stato, buttandosi a fare questa proposta di matrimonio. Anna però era preparata alla cosa, se l'aspettava dalla prima scena e quindi ha già la risposta pronta, dice volentieri Barone Zeta, io accetto volentieri di sposarla, sappia solo che se io mi sposo perdo tutto il mio patrimonio. Appena il Barone Zeta sa di questa cosa ritira la sua proposta di matrimonio e a questo punto è il colpo di scena che risolve un po' le cose perché questo è il momento in cui finalmente i soldi di Anna non sembrano più essere così ingombranti, non essere qualcosa che sta in mezzo ad Anna e Danilo, è diventata meno appetibile improvvisamente dal punto di vista economico. E allora Danilo finalmente ce la fa anche lui, trova il coraggio per dichiararsi, Anna non aspetta nient'altro e c'è il grande lieto fine. Al lieto fine si aggiunge sulla torta la ciliegina perché Anna non l'ha proprio detta tutta la questione del testamento. è vero che lei perderà il patrimonio se si risposerà, ma lo perderà in favore di qualcun altro e questo qualcun altro sarà il nuovo marito. Quindi se il Barone Zeta avesse avuto la pazienza ad aspettare avrebbe raggiunto l'obiettivo economico e appunto sentimentale. Capite allora questo happy end di una vicenda in cui le crisi di Stato si salvano con i matrimoni e in cui le questioni politiche sono annegate nelle bolle di champagne, nel mondo fantasioso e festoso di questa operetta. E questo è proprio quello che ci fa riflettere in maniera più problematica sui rapporti più o meno supposti con la storia contemporanea. Dicevo prima di Pontevedro-Montenegro. A parte l'assonanza evidente ci sono altri aspetti che nel libretto potrebbero confermare il legame insomma con lo Stato balcanico. Il primo è il fatto che Danilo sia proprio il nome del re di Montenegro all'epoca quindi potrebbe esserci questo altro riferimento. Poi molti degli invitati hanno cognomi che finiscono con la desinenza ic tipica di Serbia e Montenegro. Quindi poi quando c'è la festa vedremo i ritmi sono proprio tellurici e balcanici come quelli di quegli stati lì. Insomma tutta una serie di aspetti che effettivamente sembrano guardare in quella direzione. Il problema è che tutto questo sembra un'enorme presa in giro nei confronti di uno Stato, di un intero Stato, di uno Stato importante anche, in cui le questioni di Stato si risolvono così in maniera un po' rocambolesca diciamo e questa cosa ad alcuni non andò giù soprattutto per i rapporti di tensione che proprio in quel periodo c'erano tra l'Austria e i paesi dell'area balcanica. Proprio a Sarajevo sarebbe scocata la scintilla della grande guerra. In particolare la cosa non andava giù proprio noi italiani. Perché? Perché nel 1905 in quegli anni appunto la nostra regina Elena era proprio Elena di Montenegro. Quindi chiaramente era un po' una mancanza di deferenza nei confronti di uno Stato che ci aveva dato qualcosa di importante, di prezioso. E quando ci fu una recita a Trieste le aree rappresente se la vide brutta perché un gruppo di attivisti arredentisti dalla galleria lanciò una serie di volantini con la seguente scritta vergogni te del lavoro che hai senza H fatto. Tu offendi la corte della quale scende tanto ammirata regina Elena d'Italia. Punti esclamativi. Sei tu artista? Allora è chiaro è la classica sgrammaticatura di quelli che avevano imparato il nazionalismo ma non avevano ancora imparato la lingua nazionale in quella fase insomma a metà della nostra cultura. Ma il punto è che questo gruppo ma in generale spesso succede agli estremisti non avevano capito niente della vedova allegra perché il problema è che la vedova allegra è tutto fuorché un'opera che ha dei collegamenti espliciti con il mondo contemporaneo con la realtà quello che ci colpisce della vedova allegra è questa illogicità di fondo questa assurdità questo mondo onirico in cui sembra che siamo sempre scollegati dal pavimento siamo sempre sulla nuvoletta rosa a galleggiare non c'è il bello della vedova allegra è proprio questa assenza di contatti espliciti con il mondo della realtà la rappresentazione di un mondo che non esiste e questa rappresentazione di un mondo che non esiste è perfettamente espressa dal balzer come ho detto prima la vedova allegra è appunto un'opera ballabile dalla prima all'ultima all'ultima nota sostanzialmente e il filo il minimo comune denominatore che cuce tutto è proprio il waltzer quest'opera che batte in tre però è un waltzer particolare nel senso che Hoffman Stahl il grande librettista di Strauss autore in particolare del Cavaliere della Rosa di Strauss pare che abbia detto una volta ad Alma Mahler durante una rappresentazione della vedova allegra questa frase cioè ah se Lear avesse musicato il mio Cavaliere della Rosa cosa che ci lascia un po' stupiti perché il Cavaliere della Rosa è un capolavoro tale che metterlo a confronto con la vedova allegra ci fa un po' impressione forse era una butade però è comunque un'affermazione interessante per fare proprio un confronto un po' tra questi due lavori e questi due modi diversi di lavorare sul waltzer il Cavaliere della Rosa sapete ambientazione settecentesca mondo incipriato di paggi e di ancien regime e waltzer che fa un po' da ponte di collegamento tra le scene e i personaggi però il waltzer di Strauss il waltzer del Cavaliere della Rosa gli anni sono vicini 11 se non ricordo male Cavaliere della Rosa 5 appunto vedo allegra sono in Strauss il waltzer è davvero l'emblema di un mondo che non esiste più cioè il waltzer in Strauss in Richard Strauss naturalmente è l'emblema di una nostalgia fortissima nei confronti di un mondo che sentiamo come irraggiungibile quindi di un'era che ormai è in stato di quasi decomposizione potremmo dire in cui non si crede più questo provoca dolore il dolore del waltzer di Richard Strauss mentre in Lear in questo waltzer ci crediamo ancora tutto sommato e riesce ad acquistare una straordinaria due caratteristiche fondamentali una è questa dimensione onirica galleggiante nell'aria che è quella appunto di cui parlavo prima e che rende così lontana dalla scena contemporanea l'operetta e l'altra è la straordinaria sensualità di questo waltzer che è forse poi il marcio di fabbrica dell'opera quello che davvero definisce l'opera una fortissima dose di sensualità faccio due esempi come detto tutte le principali arie o duetti insomma dell'opera sono scritti in tempo ternario in tempo di waltzer uno i due duetti d'amore le due romanze forse lo posso togliere adesso questo che fa fastidio le due romanze sono effettivamente romanze d'amore quella nel padiglione tra Camille Valenciennes e quella invece alla fine che unisce Danilo e Lippen-Schweigen quella che unisce Danilo e Anna sono entrambe in tempo ternario quindi in tempo di waltzer ma sono appunto entrambe perfette per esprimere quello che dicevo questo waltzer onirico e sensuale partiamo dal duetto Camille Valenciennes nel padiglione si scambiano fusioni d'amore il testo dice questo sostanzialmente e il waltzer che viene fuori è questo che viene fuori La prima cosa sensuale che notiamo, tanto non sto a sottolinearlo, è evidente questo clima di sospensione, un po' sognante di questa musica, ma melodicamente c'è qualcosa di sensuale e questa sensualità è data da diverse cose. Posso citare ad esempio il fatto che questa melodia sia costruita da continue alternanze tra momenti di stasi e di movimento. Stasi, movimento. Stasi, movimento. Ferma. Stasi, movimento. Si ferma e poi si muove, si ferma e poi si muove. E questo ricorda proprio semanticamente il gioco d'amore della seduzione, cioè i momenti, il lascia molla, insomma, dei giochi d'amore, quando la donna generalmente, non sempre, anche al contrario, un po' si lascia prendere e un po' scappa. Un po' si lascia prendere e un po' scappa. Questa melodia è così, un po' si lascia prendere e poi scappa. Poi si lascia prendere di nuovo e poi scappa di nuovo. Poi si lascia prendere di nuovo. No, questo lascia scappa, lascia scappa, prendi scappa. Sicuramente c'è qualcosa di sensuale. Molte delle melodie, anche l'inizio del prelude alla premia di Don Fon, ad esempio, pagina tra le più sensuali, dedito alla storia della musica, è scritto così. Una nota lunga e poi si scende giù con un cromatismo morbido che appunto sembra sciogliere quasi quella nota. Altro aspetto, gli accordi. Lear, ecco, in questo si sente proprio che è viennese, nel senso che c'è una raffinatezza nella scrittura degli accordi che certamente viene anche dalla famiglia Strauss, che era molto raffinata, nel scrivere i waltzer naturalmente, poi nel corso delle generazioni ha avuto tempo di raffinarsi moltissimo. E lui utilizza sempre questi accordi che si chiamano eccedenti, questi qua, che sembrano un po' dissonanti, ma all'interno del contesto hanno una fortissima tensione che tende a risolvere così. Questo qui, sentite che è brutto sentire, tende a risolvere così, con grandissima tensione. Oppure in altri momenti qua. Invece che fare lui fa la tensione. Quindi accordi che creano, incrementano la tensione. In fondo la tensione, che cos'è se non la benzina della sensualità? Cioè, la tensione verso un oggetto del desiderio, la spinta verso qualcosa che si vuole raggiungere. E poi l'aspetto più efficace per dipingere la sensualità di questa musica è sicuramente l'orchestrazione. Quindi le tinte sonore, gli strumenti, gli impasti sonori che utilizza Lear per scrivere le sue idee. Perché questo duetto parte con una idea abbastanza solida dal punto di vista orchestrale. Arpa e violini fanno questo. Come se partisse un po' con un tessuto coprente, una bella seta spessa. Poi, progressivamente, questa orchestra si spoglia. Diventa sempre più leggera. Via un velo, via un altro, eccetera. Sempre più leggera, fino ad arrivare a lasciare un violino da solo. E fa questo. Poi va su in alto. Sempre più leggero. E qua, corni in sordina, trombe con sordina e arpa. Sempre più leggero. Sempre più trasparente. Poi i violini, eccetera. Rimane in sottoveste, quasi, questa musica. Progressivamente si spoglia, si spoglia di solidità fino ad arrivare a essere sempre più trasparente. Vedo o non vedo, quasi, queste trasparenze quasi di pizzo. Allora possiamo ascoltare, fare questo primo ascolto, mettendo in evidenza proprio questo lavoro sull'orchestrazione. Ecco, vedete questa musica in sottoveste. Quando arriva il violino solo, sembra che passiamo dalla sottoveste alla goccia di profumo. il pigiama di Marilyn Monroe. Sempre, sempre di meno, sempre di meno, fino a che arriviamo a questa totale trasparenza ecotimbrica. Qualcosa di simile succede appunto nel brano più celebre dell'opera, che è appunto il duetto Lippen-Schweigen tra Danilo e Anna, su cui praticamente si chiude l'opera, in cui abbiamo un'alternanza tra questa melodia Quanti pianisti dal piano bar, si sono ispirati a queste musiche per creare quell'atmosfera a lume di candela, che è tipica del romanticismo. E anche qua, effettivamente, in nuova una melodia prendi e scappa. Eccetera. Dopodiché arriva il canto più celebre di tutta l'opera, che è appunto questo. Eccetera. 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 Un po' di nuovo violino solo Un po' di nuovo violino solo E anche qua perché stiamo veramente parlando Di quelle melodie così belle Che sarebbero subito diventate fogli d'album Da estrapolare, da riarrangiare in qualsiasi modo E allora qui diventa più difficile Riuscire a spiegare un po' la bellezza di questa melodia Perché siamo un po' in quel terreno insondabile Delle cose semplicissime Ma nello stesso tempo perfette Non riesci bene a capire, a smontare Che cosa ci sia di così straordinario Qui dentro in questa semplicità così assoluta L'unica cosa che posso dire E che conferma quello che dicevo prima A proposito di questo clima svolazzante Un po' aereo, un po' atmosferico Scollegato dalla realtà della vedova allegra E che questa melodia ci dà davvero l'impressione Di farci volare A qualcosa che ci sospinge verso l'alto E questo è dovuto al fatto che Poi naturalmente Quando parliamo di la semplicità di questi capolavori È sempre una semplicità costruita Naturalmente È sempre una semplicità Che dietro ha grande raffinatezza E allora c'è un'alternanza Tra momenti in cui la melodia Sembra decollare Sembra andare verso l'alto E planate In cui galleggia nell'aria No? Qua Qui saliamo Primo salto Poi Prima planata Secondo salto Un pochino più in alto Planata Un po' più in alto Culmine E discesa Atterraggio Proprio questo senso I fratelli Wright Credo che avessero volato due anni prima Penso che Riesce già a creare l'impressione Del volo Del sospingerci verso l'alto Allora ascoltiamola Cercando appunto di Cogliere questo aspetto Che poi è evidentissimo Altra cosa che non può mancare Nella operetta È il momento dell'esotismo Cioè un momento in cui C'è una pennellata Che viene da una cultura diversa E qui appunto C'è la festa Pontevedrina Che effettivamente È tutta basata Su ritmi Melodie E appunto Armonie Che vengono Dalla cultura Pontevedrina Solo che il problema È che questo Pontevedro Appunto non esiste E allora come Lo realizza Questo Questo esotismo Lear Lo realizza Mettendoci dentro Tante cose Che conosciamo E quindi c'è Quest'idea E qui riconosciamo Certamente Il ritmo proprio Tellurico Dei Balcani Questo è assolutamente Tipico Con quella Leggera Spostamento Sempre Degli accenti Da deboli a forti Che è tipico Insomma Di questa cultura Che si mescola A idee Che vengono Ad esempio Dalla cultura ungherese Le rhapsodie ungherese Lear Era nato In Ungheria Poi stiamo parlando Dell'impero austro-ungarico In cui naturalmente Gli zigani Bazzicavano Continuamente Per la città E questi momenti In cui abbiamo Sorti E poi Li sentiamo Insomma Nel mondo Ungherese Nelle rhapsodie Ungheresi Dopodiché Dopo questa Idea Che introduce Qualcosa Che certamente Rimanda A un mix Tra mondo Balcanico E Ungheria Viene fuori Un'idea Che ha davvero Qualcosa di strano Di bizzarro Lo notiamo subito Ed è questa Sentite che c'è qualcosa Di strano In questo E la stranezza È data Dal fatto Che ci siano Questi intervalli Che rendono Una scala Minore Diciamo Normale Questa Leggermente Diverse Nel senso Che Le note Sono tutte Uguali Tranne una La scala Minore È questa La scala Che usa Lui È questa C'è una nota Che cambia Quando spiego Queste scale Faccio sempre L'esempio Dei cocktail Sbagliati Pensate Al Negroni Sbagliato Al Cuba Libre Sbagliato Ci sono Dei cocktail Che hanno Una ricetta Standard Con degli ingredienti Da mettere Che sono tutti uguali E poi ne cambiano Uno solo Ne fanno Uno diverso E allora Viene fuori Un po' Quel gusto Strano Un po' Particolare Un po' Esotico E qua Questo Modo Di usare Queste scale Che si chiamano Modali Questa è una scala Lidia Rimanda sia Alla cultura Popolare Sia Diciamo A un mondo Un po' Surreale Un po' Strano Un po' Remoto E questo È accentuato Dal fatto Che questa Melodia Si è eseguita Dal coro Di coloratura C'è un coro Che dice solo A E allora Sentite Quando Appena comincia Sentiamo Sound Che poi Sarebbe stato Davvero Sfruttato Nel corso Di tutto Il novecento Dai grandi Arrangiatori E compositori Di musiche Per il cinema Sentiamo Il lessico Musicale Che va Da Cabiria Fino a Benur Quei luoghi Remoti Lontani In cui c'è Qualcosa di strano Di surreale Che ci allontana Dalla realtà In cui siamo Allora Sentiamo Questo Esempio Le colonne sonore Del novecento Del cinema Del colosal Avrebbero sicuramente Pescato a piene mani Da queste melodie Un po' modali Con il coro Che dà questo Senso di esotismo Di stranezza Di un mondo Che non conosciamo Remoto Diverso Diverso da quello In cui viviamo Tutti i giorni L'ultimo aspetto Che voglio mettere In evidenza Questa breve Chiacchierata È L'aspetto Del Collettivo Cioè La vedova Allegra È un'opera Come ho detto Ambientata In tre feste In cui domina Totalmente Il collettivo In cui Il collettivo Si può dire Che schiacci Soffochi Un po' L'individuale Questo Certamente Un po' È dovuto A questa volontà Di Alludere Al mondo Parigino Delle grandi Feste Dei grandi Dei grandi Locali In cui L'individualità Appunto Non riesce a trovare Spazio Immersa All'interno Di questa Collettività Festante Chiassosa Questo Aspetto Viene fuori Nella maniera Più esplicita Nel finale Poi Di quest'opera In cui c'è Appunto La scena Parigina In cui Anna Riproduce A casa sua Lo scenario Di Maxime In cui arrivano Le grisette Appunto E questo Queste grisette Appunto Sono le compagnie Di viaggio Di Danilo Danilo Dice Io vado Da Maxime Lì sono A casa mia Do del tu A ogni dama La chiamo E la vezzeggio Lolo Dodò Juju Clo Clo Margot Frufru Mi fanno scordare I tanti miei tormenti Le grisette Di Maxime Sono diventate Le sue compagne Insomma Di vita E questo Ci costa Ti farei una piccola Riflessione Sul tema Del femminile Che poi È alla fine Il tema di fondo Di quest'opera Questo tema Del femminile È un po' Una scatola nera Che i personaggi Osservano Da tanti punti di vista Ma che poi Non aprono mai Bene dentro Non riescono davvero A scandagliare il problema A capire L'animo femminile Si capisce Che è un'opera Scritta dagli uomini E che non vogliono Neanche forse Tanto di cercare Di capire I segreti Dell'universo femminile Lo dicono Nel primo atto I personaggi Quando si Riuniscono Tutti i maschi Alla festa Si appartano Per un attimo E filosofeggiano Per qualche minuto Sul tema del femminile Naturalmente La filosofia Da spumante Con il bicchiere In mano Pieno di champagne E allora comincia Il barone Z Che dice Come le donne Ci resti infedeli Come dunque Nessuno l'ha scoperto Ancora E li lancia il tema Poi intervengono gli altri Dicono No Non v'è alcuna teoria A una Bisogna fare un complimento E adulazioni Carezze Senza fine All'altra Bisogna imporsi Bisogna perfino Scocciarla Poi arriva un terzo E dice Zo 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 Così 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 Che è un ritornello Tanti giochi di lingua I scioglilingue I giochi di parole Presenti nell'opera Che riempiono un po' I vuoti La quarta vuol bisticci Litigi La quinta vuol solo Ballare e ridere E poi abbassano Tutti la voce C'è un pianissimo Di tutto Di tutto l'insieme E dicono Poi vogliono anche Altre cose Sì Difficile Lo studio delle donne Ha le donne Queste donne Ma nessuno Conosce anima e corpe La donna E arrivano Alla fine Della riflessione Filosofica Con questa morale Per noi uomini Un affare Indiavolato Che poi Il verso Su cui si chiude L'opera Allora per non Diciamo Spaccarsi la testa Su questo affare Indiavolato Meglio le grisette Che appunto Dicono Sul boulevard A sera Lì passeggiamo Noi grisette E flirtiamo Su e giù E poi Dicono Facciamo Triple trap Triple trap Questa onomatopea Che forse spiega Meglio di qualsiasi Trattato Il ruolo sociale Proprio Delle grisette E simili Nel corso Della storia E di tutti i tempi Facciamo triple trap Triple trap E questo triple trap Diventa Proprio il ritornello Della loro canzone Il grisette E il lead Appunto In cui abbiamo Triple 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 trap Ma questo triple trap Diventa Zip e zap Anche insomma Evolve Si varia Diventa Davvero Un po' La morale Di questa scatola nera Del femminile Che non si riesce Mai ad aprire Allora ascoltiamo Magari questo Passaggio E allora Questo Sembra proprio Il tappo di champagne Che parte Alla fine dell'opera E inonda tutti Di questo champagne Spumeggiante Pieno di bollicine Che Stordisce Un po' I personaggi C'è certamente Il can can di off Fineback dentro Si sente Però anche C'è qualcosa di diverso Certamente È un momento Come dicevo In cui il collettivo Domina E si inghiotte Proprio Si mangia Tutto l'individuale E questa è un'altra Caratteristica tipica Dell'operetta Perché non è che Nell'opera Non ci siano momenti Di grande collettività Festante Tipo questo Però C'è sempre poi L'altro polo La dialettica Dello scavo Nell'individuale Pensiamo Che ne so Al finale Del Don Giovanni Primo atto Grande festa collettiva Grande festeggiamento Però Dentro Ci sono le inquietudini Dei singoli Protagonisti C'è il terzetto Delle maschere Che arrivano A portare ansia C'è Don Giovanni Che alla fine È un personaggio Che è sempre Alla ricerca Di qualcosa Che ha grandi problemi Interiori Insomma Psicologici Forse psichiatrici Non so E sicuramente C'è sempre Questa Al finale Del ballo in maschera Grande festa collettiva Ma in mezzo Ci sono Le preoccupazioni Dei singoli personaggi Che poi sfociano Nell'assassinio Quindi c'è sempre Questo bipolarismo Nell'opera Nell'operetta Invece no L'individuo Si lascia schiacciare Totalmente Dalla collettività E questo Naturalmente Porta E viene Da questa ispirazione Di Parigi Vista come Capitale Del divertimento Che si mangia Tutto ciò Che rappresenta L'individuo Lo dice in fondo La stessa protagonista A un certo punto Perché dice Noi ci amiamo Si intende Lo dice Anna Glavari Noi ci amiamo Si intende Proprio alla maniera Parigina Ognuno va Per la sua strada Proprio alla maniera Parigina Quindi amarsi Vuol dire Tare insieme Ma all'essere Stempo andare Per la propria strada E conclude dicendo Questo sì Che è chic Amarsi ma ognuno Per la sua strada Ecco io allora Credo che Sia proprio Questo triple trap Che non è mai Però volgare È sempre chic Il vero segreto Insomma di quest'opera Che affascina Così tanto Da tanti decenni Tutti quanti Grazie Buona Buona vedova Allegra Grazie Andrea Malvano Un successone Vuol dire che devi tornare Sì No bravissimo Che rivedere Che rivedere più volte La vedova Allegra Fino Fino al 6 di lugno Buona estate Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti